continua la carriera di belen rodriguez nel mondo della moda e sì perché l'argentina non è solo conduttrice influencer e protagonista indiscussa del gossip italiano ma anche un'imprenditrice dopo me fui dedicato al bitware e innominate sullo streetwear la moglie di stefano de martino ha lanciato sul mercato il brand mar de margaritas una linea iper femminile composta da abiti gonne e bluse a tema floreale una linea decisamente romantica e splendida che ha subito attirato la curiosità di molti belen rodriguez ha sfoggiato in anteprima un capo del suo mar de margaritas nell'ultima intervista rilasciata silvia tofanina verissimo come sempre però non sono mancate le critiche molti si sono lamentati dei prezzi considerati eccessivi mentre qualcuno non ha esitato a definire i vestiti di belen la copia di quelli shin noto brand low cost cinese tra una critica e l'altra è così intervenuta veronica cozzani la madre della rodriguez che ci ha tenuto a fare una precisazione importante tutto made in italy sono di ottima qualità ha fatto sapere la cozzani che è nata e cresciuta in argentina ma a origini italiane più specificatamente liguri in poche parole la madre di belen e cecilia ci ha tenuto a puntualizzare che la linea mar de margaritas è di buona fattura e questo influisce inevitabilmente sui prezzi ma quanto costano i vestiti di belen e del suo mar de margaritas in realtà i costi non sono così proibitivi si parte da un minimo di 135 euro il vestito che costa di più è a 258 euro come spiegato da belen rodriguez mar de margaritas ha una missione quella di realizzare capi made in italy per tutte le fisicità femminili la showgirl ha intitolato il marchio di abbigliamento prendendo spunto dai ricordi da una canzone che suo padre gustavo rodriguez durante uno dei suoi viaggi di lavoro per l'argentina aveva composto dedicando la sua moglie veronica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti